Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, finalmente andiamo a vedere il foglio Excel per tenere traccia del proprio portafoglio. Tra l'altro vi anticipo subito che tramite questo foglio uno può tenere traccia contemporaneamente del portafoglio cripto, azionario e quello liquidità, anche se quello liquidità vedremo è quello un pochino più manuale e molto più lasciato alla libera interpretazione e alla vostra libertà anche, mentre gli altri sono un pochino più sistematici, nel senso che il foglio va a performare delle operazioni proprio in automatico. Facciamo un esempio concreto, quindi questi dati li ho messi qui in maniera quasi casuale, semplicemente per andare a fare un esempio con voi e inserire effettivamente le varie transazioni per acquistare questi asset e vedere come il foglio Excel reagisce effettivamente all'inserimento, come funziona, anche perché vi sembrerà magari un po' complesso guardandovi tutte queste schede, ma molte di queste vedrete che sono in realtà automatizzate e non bisogna andare a toccarle tutte, solamente alcune sono quelle dedicate all'inserimento dei dati, tutte le altre vanno a performare operazioni in automatico. Vi anticipo che servirà questa estensione API Connector da scaricare, vi lascio tutti i link in descrizione, comunque è una estensione di Google Chrome e ci servirà nel particolare per i prezzi di CoinGeek. Ok, se adesso avete scaricato API Connector partiamo dalle basi, cioè come andare effettivamente a copiarvi questo file, infatti io ve lo condividerò, link in descrizione, in modalità solo a lettura, voi dovrete andare su file, make a copy, fai una copia, crea una copia e questo andrà a creare lo stesso file nel vostro Google Drive, quindi è inutile che mi andate a chiedere i permessi di scrivere su questo file, non ha senso perché questo qui è il template, quindi file, crea una copia, ok? E così quella lì, la copia che andrete a creare potete effettivamente modificarla. Una volta che ce l'avete, quindi avete la vostra copia, andate nella sezione Crypto Prices, Extensions, se avete scaricato API Connector ve lo ritroverete qui e andiamo a premere su Manage Connections. Vi aprirà questa piccola scheda, andiamo a premere su Request, allora adesso io gli ho già dato la request che è necessario avere, voi dovrete andare a premere su Crea Request, io adesso andrò a premere su Edit, ma il foglio che vi appare dopo è uguale, a prescindere da che voi premiate su Crea o Edit, dovete lasciare tutto così com'è, nella sezione API URL dovete incollarci questo testo, ve lo lascerò in descrizione, quello che stiamo andando a fare, vedete, è prendere l'API di CoinGecko e mettere la currency in euro, quindi il prezzo delle crypto in euro, e selezionare le prime 200 che CoinGecko ci mostrerà. Qui potreste anche cambiarlo volendo, mettere le prime 1000. Poi, altra cosa importante è Destination Sheet, dovete premere su Set Current, così lui effettivamente vi andrà a stampare tutto l'elenco su questa slide. Poi salvate e andate a premere su Run. Effettivamente, premendo su Run, lui andrà ad eseguire l'operazione, cioè andrà a prendere i presi di CoinGecko e stamparveli. Gli esiti sono due, esito positivo oppure esito con questo errore. Purtroppo questo errore mi fa piacere che mi sia comparso, perché è un errore che non si può eliminare. E' tipicamente l'errore 1.0.1.5, ed è un errore dovuto al fatto che CoinGecko limita gli accessi alle sue API per non avere problemi di troppa gente che gli fa accesso contemporaneamente, e Google Drive purtroppo non riesce a risolvere questo problema. Quindi ogni tanto, quando noi andremo a fare questa operazione perché vogliamo i prezzi delle criptovalute aggiornate in tempo reale, lui ci darà errore. Non c'è soluzione a questo se non aspettare un po', aggiornare la pagina e riprovarci. Per riprovarci, tra l'altro, non è necessario di fare tutti gli step di prima, basta andare su Extension, API Connector, Refresh All Now, e lui andrà ad eseguire la stessa operazione che avevamo visto prima. Come vedete adesso mi ha ridato l'errore, quindi non ci posso fare niente. Vi voglio infatti subito sottolineare una cosa, i dati che questo foglio utilizza per quanto riguarda le criptovalute non sono aggiornati ogni secondo, ma sono aggiornati nel momento in cui andate a fare Extension, API Connector, Refresh All Now. Questo perché, per come funziona questo foglio Excel, almeno in questo momento, poi magari lo cambierò un po' nel tempo, però se dovevo farlo perfetto non vi facevo più il video, e di conseguenza i veri prezzi sono aggiornati magari a qualche ora fa, dipende quando voi andate a premere Extension, API Connector, Refresh. Tipicamente la soluzione da utilizzare è quando vi interessa vedere il vostro portafoglio aggiornato, andate qui, Extension, refreshate la cosa così lui vi stampa i dati aggiornati e voi avete il vostro portafoglio corretto, aggiornato al momento. Vi dico subito adesso, anche se lui mi dà errore, poco mi importa perché io l'avevo fatto tipo due minuti fa, quindi i prezzi delle cripto sono più o meno questi, magari il centesimo, il decimo può essere cambiato, ma poco ci interessa adesso che è più che altro un test. E quindi andiamo a costruire il nostro foglio di test e vediamo come si comporta il tutto. Vi faccio notare che ci sono tre sezioni importanti da valutare a livello di schede, anzi quattro. La sezione Database, che è quella dove andremo periodicamente, nel particolare io lo faccio una volta al mese, a salvare i dati, a fare una sorta di screenshot del nostro portafoglio. La sezione Dashboard, invece, che è quella che vedrete va in un'unica botta a darvi come è corrisposto il vostro portafoglio. Quindi in una botta voi vedete qui Dashboard Crypto, com'è la vostra situazione cripto, e poi c'è la Dashboard complessiva che raggruppa tutto. Poi invece c'è la sezione History, che è quella che a noi interessa, cioè quella dove effettivamente andiamo a scrivere i dati delle transazioni, e poi c'è la sezione Positions, che ci fa vedere come sono per ogni asset le nostre posizioni, in perdita di quanto, in guadagno di quanto. Partiamo quindi con inserire i dati relativi alle cripto. Avevo messo Bitcoin 2800 euro, Ethereum 1200. Quindi, partiamo subito. Facciamo un esempio di compilazione, no? Io metto la data. Ecco, subito qui. Crypto è importante mettere il ticker che utilizza CoinGecko. Non posso scrivere Bitcoin, perché se scrivessi Bitcoin non me lo riconosce. e quindi non mi andrebbe poi a performare tutto ciò che lui fa. Anche come azione sono un po' ristretto, cioè posso mettere o Buy o Sell. Nel senso che in realtà potrei metterla qualunque cosa, anche questa roba qui, ma poi il foglio Excel mi va a dare dei problemi, ok? Quantità. Ipotizziamo ne abbia comprata 0.1 ad un prezzo di 28.000 dollari. E così, ok? Lui mi va poi effettivamente a dire che ho speso 2800 euro. E poi andiamo a completare subito anche Ethereum, quindi ETH, perché è il ticker di CoinGecko, Buy, perché l'ho comprato, 0.65 ad un prezzo di 1850, più o meno, se questo poi lo tirate giù, ok, vi darà 1200. Vi faccio notare che già solamente avendo inserito queste due transazioni di acquisto, si è compilato in automatico che cosa? La sezione Position Scripto, che vedete è andata ad inserire le mie due posizioni e mi dice quante ne possiedo di shares, quindi di quanti Bitcoin e quanti Ethereum, il prezzo medio di carico, il prezzo corrente, che però lo va a prendere dalla scheda Crypto Prices, quindi va a prendere questo prezzo corrente, il costo, quindi quanto ho pagato, e il valore attuale, di conseguenza gain percentuale e in valore assoluto. Vi faccio notare che si compila in automatico anche la sezione Dashboard Crypto, che ora mi dice, Crypto 4100 euro, Realized Gain 0, cioè non ho guadagnato niente, realizzato, e Unrealized 97.82, per un ROI di 2.44%, e poi il grafico, che mi dà subito la mia scomposizione, vedete, 70 Bitcoin e più o meno 30 Ethereum. Year to date sarebbe il rendimento a partire dal primo di gennaio, diciamo, però qui gli andrebbe dato il riferimento al primo di gennaio, ok? Quindi questo va messo un po' hard coded. Vi voglio subito spiegare come funziona però una cosa particolare, che potrebbe interessare a quelli un pochino più sofisticati, cioè, questo tipo di foglio io l'ho impostato con il meccanismo FIFO, First In, First Out. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se io adesso andassi a inserire una nuova transazione di acquisto di Bitcoin, ad esempio, dove il prezzo di acquisto stavolta è molto molto più basso, quindi per esempio 5.000 euro, perché ha fatto uno sbalzo enorme nella singola giornata. Allora, innanzitutto vi faccio vedere che la mia position crypto si aggiorna, dove si aggiornano sia le share che il prezzo medio di carico, vedete che si è abbassato, e il mio gain si è alzato molto. Ma, perché vi dicevo First In, First Out? Perché, se io adesso vado a vendere Bitcoin, e quindi inserisco una transazione di vendita, fammi copiare questa, ok, dove però, anziché comprare, vendo 0.05 Bitcoin a 5.000 euro, dunque voi potreste pensare che lui va a cancellare quella di prima, cioè io ho comprato prima 5.000, poi subito ho rivenduto a 5.000, e quindi dovrei avere solamente questa come posizione, cioè 0.1 di quantità per un prezzo medio di carico di 28.000. Se andiamo in position crypto, notate come non è così, cioè le share sono 0.1 chiaramente, ma il prezzo medio di carico non è 28.000, ma è 16.500. Per quale motivo? Dunque il motivo è che, in sostanza, torno qui, lui non è andato ad eliminare questa, che era l'ultima, è andato ad eliminare parzialmente metà della prima posizione, perché First In, First Out. Questo in realtà alla fine dei giochi, cioè quando comprate e poi rivendete tutto, non vi cambia le cose, però vi cambia magari nelle parti temporanee, tipo adesso voi potreste dire, ma scusami, perché non mi ha eliminato questa qui? Eh, non l'ha eliminata perché il foglio Excel utilizza un First In, First Out, FIFO, ok? Vi faccio anche notare che la nostra Dashboard Crypto, in questa maniera, pensa di avere realizzato un guadagno negativo. Per quale motivo pensa di aver realizzato un guadagno positivo, che poi si va a controbilanciare comunque con un Unrealized positivo? perché se, facendo i conti, lui, che cos'è che ha calcolato? Ha calcolato che noi prima abbiamo comprato 0.1 Bitcoin, pagandoli 2.800 euro, e poi ne abbiamo venduti di questi 0.1 la metà, ma ci hanno dato solo 250 euro, quindi siamo in potenziale perdita, ok, siamo in una perdita che è, e lo leggiamo qui, di meno 1.150. Ovviamente tale perdita che lui va a segnare nella Realized, poi si compensa con un Unrealized che è molto più alto, perché ovviamente abbassandosi di brutto il nostro prezzo medio di carico, grazie a questo acquisto qui, allora io ho un, come dire, ho un gain nettamente superiore, e quindi poi controbilancia l'UnRealized e il Realized per avere un profitto netto positivo, infatti il ROI è positivo. Però questo è importante perché magari, altrimenti non ritrovate il senso di avere, ma perché ho realizzato un guadagno che è negativo addirittura, e il senso è perché tutti i conti che il foglio va a fare sono utilizzando la tecnica di FIFO. Questo potrebbe non esservi, non starvi simpatico, voi potreste dire magari preferivo il LIFO. Si può fare? Sì, andrebbe semplicemente riscritto un po' il codice, ok? Quindi qua dipende da qual è la vostra esigenza. Ora, chiaramente il foglio l'ho fatto io, quindi ci ho messo il FIFO, dovreste andare a rimodificare molto il codice, se sapete farlo, per metterci un Last in, First out, anziché un FIFO. Comunque adesso queste due noi le togliamo, perché non è nostro interesse quello di andare a complicarci la vita in questo momento, e andiamo ad inserire anche la parte di azionario, ok? Volevamo inserire anche la parte azionaria, quindi vado in History Finance e faccio una cosa analoga, quindi anche qui 20.05.2022, Asset. Ecco, mentre prima, come vi dicevo, a livello di Asset bisognava mettere i ticker di CoinGecko, ora qui, a livello di Asset, siccome io utilizzo in questo foglio Excel Google Finance, bisogna utilizzare lo stesso ticker che mette Google Finance, quindi, per esempio, io avevo messo come esempio Ferrari, quindi vado a scrivere Google Finance, lo apro, e cerco Ferrari. Notate come lui mi dà questa, poi controllo che sia quella giusta, in questo caso ipotizzo che sia quella giusta, devo copiare questo ticker qui, bit.race, lo copio, e lo vado ad incollare qui. Li tolgo anche lo spazio che c'è, non è obbligatorio, ma a me piace toglierlo. Action, buy, quantità 11 ad un prezzo di 180, questo mi ero già fatto io i conti, più o meno dovrebbe uscire la quantità che desidero, cioè quasi 2000 euro. Una cosa che è importante sottolineare, è che nel settore Finance, io mi sono segnato che è sempre necessario, prima di poter comprare, fare dei depositi cash, come se ci fosse un broker, al quale prima depositiamo tramite bonifico, e poi utilizziamo quei soldi per comprare. Questo lo si poteva fare anche nella parte crypto, ma lì preferivo non complicare le cose, mentre qui noterete che se non selezionare, cioè se non inserite prima il deposito cash, lui vi darà che praticamente avete speso soldi che non potevate avere, e quindi crea un po' di errori. Quindi per banalmente risolvere la situazione, dovete fare in questo modo, cioè avete depositato cash, azione deposit, che va a controbilanciare l'azione di withdraw, scritto così, Sì, ve lo scrivo, aspettate. Ok, questa è l'azione contraria al deposit, che va ad annullare, nel caso in cui praticamente dal broker prelevate direttamente al vostro conto bancario. Quantità, 2000 euro, al prezzo di uno, e ok, qui devo semplicemente trascinare. In questo modo, che cosa abbiamo scritto? Abbiamo scritto che prima abbiamo bonificato 2000 euro, e poi abbiamo comprato questa azione pagando la 1980. Ok, adesso vi faccio notare che se vado nel positions finance, effettivamente qua mi si è aggiornata, e mi mette il ticker, BitRace, che mi devo ricordare essere la Ferrari, però vabbè, se la compro probabilmente me lo ricordo anche. Mi dice quante share ho, quindi ne ho 11, prezzo medio di carico, il prezzo attuale che lui lo va a prendere direttamente da qui, quindi da Google Finance, tipicamente ha un ritardo di 20 minuti, 15 minuti, però più o meno capite che questo foglio Excel non serve per fare trading, che quindi vi serve il prezzo reale esattamente al secondo, ma per sapere più o meno la vostra posizione, anche se è aggiornata di mezz'ora fa, poco importa, ok? Il costo, il valore, e il gain, anche qui in percentuale e in euro. Vi faccio vedere che anche qui chiaramente si aggiorna la dashboard di Finance, dove noi vediamo il portafoglio value, che ha asset 1998 e cash 20 euro, che se vi ricordate era la differenza tra quello che io avevo depositato, 2000 e i 1980 che avevo speso per comprare l'asset, quindi lui me li dà sotto forma di cash, e anche qui guadagno realizzato, guadagno realizzato ROI. Purtroppo qui il grafico è un pochino più bruttino, perché i grafici di Google Drive, fin tanto che c'è un solo asset, sono così, mentre se ce ne fosse almeno un altro, poi comparirebbe più sensato, come era il dashboard crypto, quindi questo purtroppo è per come funzionano i grafici di Google, almeno forse avrei potuto modificarli in un qualche modo, ma non l'ho trovato, e nel mentre va bene così. Tenete conto che dal mio punto di vista, mi interessa che sia un po' un file in aggiornamento, perché sicuramente si possono fare cose migliori, però intanto almeno ve l'ho condiviso, quindi sarà in continua manutenzione questo file. E adesso mi interessava anche, visto che abbiamo fatto anche la parte di crypto, andare a inserire l'ultima parte, cioè la parte di liquidità, quindi ipotizziamo 1200 euro su Nexo, 1200 euro su crypto.com sotto forma di USDC, e in banca 1600 euro, così. E quindi ci tocca andare nella history liquidity. Notate che io ho suddiviso history liquidity in euro e in dollari, questo era importante, altrimenti poteva creare un po' di confusione. Quindi prima facciamo quella euro, e andiamo a inserire, che cosa? Crypto. Allora qui io di solito gli do questi nomi così, cioè EUR Nexo, perché in questo modo so che cosa sto depositando, cioè euro su Nexo. In realtà qui avrei potuto dargli un qualunque tipo di ticker, perché vedremo che il ticker qui non è importante, però io metto almeno un ticker che riesco a concepire. Quindi li ho comprati. Quanti ne ho comprati? 1200. Il prezzo è un euro per ogni euro, ovviamente, e quindi ho pagato 1200. E subito vi faccio vedere che in position liquidity, lui mi ha messo EUR Nexo, 1200, PMC un euro, prezzo un euro, costo 1200, me lo dà anche in dollari, valori in euro, valori in dollari, guadagno percentuale, guadagno in euro, guadagno in dollari. E poi questa parte qui, ragazzi, è molto molto manuale. Ve lo dicevo all'inizio, la parte di liquidità è quella molto più manuale, quindi il foglio Excel è sia automatizzato fino a un certo punto, però ad esempio questa parte, questa tabellina che ho fatto, non è automatizzata, dovete mettergli voi i dati giusti, tipo adesso c'è file, ha già preso lui in automatico, che sono i 1200 euro in banca, 1600, glielo dovreste inserire manualmente, per dire che effettivamente nella parte di liquidità in euro, avete 1600 euro in banca. Per quanto poi riguarda USDC di Crypto.com, bisogna andare di nuovo in history, liquidity dollari stavolta, e selezionare USDC, io lo chiamo Crypto.com, così si capisce, azione, buy, quantità, 1269.47, questi dati non li ho messi a caso, perché vedrete che più o meno farà 1200 euro, infatti qui, la cosa che dovete capire è che il prezzo è in dollari, è per questo che si chiama history liquidity dollari, chiaramente, e anche qui, se vado in position liquidity dollari, adesso si è aggiornato, e vedete che più o meno sono 1200 euro, 1199.92, questo prezzo ovviamente si aggiorna, in base anche al prezzo di mercato del cambio euro-dollaro, infatti, la cosa interessante, ed è il motivo per il quale ho creato position liquidity in dollari in euro, è che se a voi interessa effettivamente vedere quanti dollari avete qui, la reale quantità di asset che avete è scritta qui, cioè voi avete 1269.47 USDC, poi quanto questi valgono dipende dal prezzo di USDC, e se volete saperlo anche in euro, dipende dal prezzo che c'è tra euro e dollaro, ovviamente. Notate come si sono aggiornate anche le dashboard, dashboard liquidity in euro, è fatta in questo modo qui, e poi c'è la dashboard liquidity in dollari, che è fatta in questo modo qui, anche qui il grafico purtroppo è bruttino, semplicemente perché c'è solo usdccrypto.com, che prende tutto il grafico. E adesso che abbiamo messo tutto, noterete come nella dashboard complessiva c'è tutto. Cioè c'è il portfolio value, 10.118, suddiviso in crypto, etf, che qui vabbè campo azionario, ci ho messo etf, ma potreste scrivere azioni, cash, e poi guadagno realizzato zero, perché non abbiamo venduto da nessuna parte in questo momento, unrealized gain 115, ROI potenziale 1.16, anche qui gli year to date non l'ho messo, perché bisognerebbe dargli un punto di riferimento, hard coded. E qui abbiamo il nostro grafico, per vedere la scomposizione del nostro portafoglio, complessivamente, quindi in percentuale. Vi faccio subito notare che, un'altra cosa manuale, che purtroppo non è automatizzata in questo foglio, è la sezione dei database, che però per me è molto molto importante. Cioè, se notate abbiamo un database per la dashboard complessiva, suddivisa nei mesi, avremmo potuto farla anche più indietro nei mesi dell'anno scorso, e ovviamente potrà proseguire qui, e io la utilizzo perché ogni mese, secondo me, può essere utile scriversi praticamente la situazione. Perché altrimenti questo foglio Excel vi dà la vostra situazione aggiornata in tempo reale, ma se voi non vi ricordate i dati del mese precedente, non sapete poi l'evoluzione, a parte magari il ROI, che il ROI vi dice però l'evoluzione dal day zero, cioè da quanto effettivamente avete pagato voi il costo dei vostri asset rispetto al loro valore. Mentre qui voi potete scrivervi, no? Una sorta di database, anche perché è molto importante soprattutto ai fini fiscali, magari sapere quanto era il primo di gennaio, eccetera, eccetera. Stessa cosa per quanto riguarda i database delle sezioni specifiche, quindi questo è il database complessivo. Poi abbiamo il database della liquidità, dove qui vi avevo già incollato questi due di esempio, USDC, Crypto.com e Euronexo, voi ovviamente potreste prendere il template, copiarlo e incollarlo mettendoci, che ne so, euro sulla piattaforma PINCO, ok? Se esistesse, d'accordo? Adesso questo lo cancello. Stessa cosa per il database crypto, anche qui vedete BTC e ETH, e stessa cosa per il database della finance, dove ovviamente i dati che io ho messo da segnalare sono quante share, costo, valore, year to date, PNL rispetto al mese precedente e poi ROI, se vedete sono gli stessi anche qui e anche qui. Un'altra cosa, un'altra sezione che può essere interessante e che io ho aggiunto, voi potete scegliere se usarla o meno, è questa, EURUSD con Position EURUSD. Perché essendo noi in Europa ci può interessare, magari quando cambiamo gli euro in stablecoin, sapere anche la differenza di prezzo tra euro e dollaro rispetto al nostro valore di ingresso e eventualmente il nostro valore finale. Tipo, dall'esempio che ho fatto, io ho comprato 1269.47 dollari per avere gli USDC, no? Quindi no, scusate, questa andava qui, l'azione è buy e EURUSD mi pare fosse 1.06 oggi, quindi per un totale di più o meno, no, qui c'è un diviso, scusate, più o meno 1.200 euro. Se adesso vado in Position EUR, EURUSD, vedete che lui mi mette proprio la posizione del cambio. Cioè io ho 1.269.47 dollari, li ho comprati, in realtà sono diventati degli USDC, perché poi magari li ho utilizzati come USDC. Però qui mi fa capire che sto guadagnando in questo momento 3 euro solamente sul cambio, ok? Perché evidentemente il prezzo di questo momento si è alzato, d'accordo? Quindi questo è molto importante da capire. Potete anche decidere di non usarla se a voi questo non interessa. Io penso che a volte possa fare comodo sapere anche la differenza tra prezzo di acquisto e prezzo di vendita proprio dei vostri euro barra dollari. Un'altra scelta sarebbe stata quella proprio di creare un foglio solamente per la liquidità in dollari o un foglio solamente per la liquidità in euro, però sta un po' a voi, nel senso che alla fine con questo foglio qui non potevo accontentare tutti. Secondo me funziona bene così. Quindi ragazzi, spero in realtà che sia stato abbastanza completo questo overview. Mi rendo conto che il foglio non è semplicissimo, però se in realtà provate a giocarci un po', quindi magari fate un po' di prove, noterete come in realtà le cose importanti che voi dovete effettivamente selezionare e scrivere sono solo la parte di history. Tutto il resto si compila praticamente in automatico, quindi a voi la parte di compilazione vi richiede solo questo. Ora, una domanda potrebbe essere bene, ma come faccio a ricrearmi il mio portafoglio? Qui ragazzi ovviamente non è mai divertente. Uno strumento che potete provare quantomeno a vedere se funziona per ricostruire un po' lo storico sugli exchange è Atani. Trovate il link in descrizione per scaricarlo, è gratis. Voi potete collegare gli exchange, tra l'altro hanno aggiunto FTX da poco che quindi può essere molto utile per chi tra di voi utilizza anche FTX oltre ovviamente ai più famosi come Binance, Coinbase, Bitfenix e Kraken e nella sezione portfoglio adesso questa qui è una demo ovviamente non è il mio portafoglio però vi dà lo storico proprio dei vostri acquisti e questo è molto comodo per cercare di ricostruire un po' la vostra storia. Se avete però acquisti in DeFi è così purtroppo ragazzi dovete cercare di ricostruire la vostra storia. So che non è facile ovviamente la cosa migliore è prima ricostruisco la storia e poi sto al passo cioè da questo momento in poi le cose me le segno quando le faccio quindi se io domani acquisto Bitcoin me lo segno domani non è che me lo segno fra sei anni che ho acquistato Bitcoin domani altrimenti diventa tutto molto più difficile. Quindi ragazzi spero che il video vi sia piaciuto distruggete questo video di like veramente per farmi capire che vi può interessare questo tipo di argomenti penso che porterò un po' di aggiornamenti in merito a questo foglio perché io ve lo volevo condividere ma non è ancora perfetto cioè mi rendo conto che possono essere fatte delle migliorie ad esempio la parte di liquidity la dashboard con i grafici così sembra un po' suddivisa tra quella in dollari e in euro magari potrebbe essere interessante avere un grafico che racchiude tutta la liquidità che sia in euro e in dollari raffigurata magari solamente in euro quindi con il cambio del momento questo in realtà si potrebbe fare tranquillamente già ora i dati ci sono tutti bisognerebbe solo fare un grafico quindi continueremo a mantenere aggiornata questa parte e come vi dicevo prima la parte di liquidità è quella molto più malleabile tipo anche questa parte qui rossa è una parte che si crea manualmente non si aggiorna in automatico anche questa qui cioè prende i dati da in realtà la parte di position dove però vi dicevo questa parte qui è completamente manuale e anche questa parte qui è completamente manuale quindi verificate effettivamente che sia concorda a quello che state segnalando mentre tutto il resto è molto più automatizzato una domanda potrebbe sorgere spontanea tipo ma gli interessi di crypto.com come li segnalo nella sezione history liquidi di dollari dunque qui dipende un po' da quello che preferite voi a me piace segnali in questo modo quindi vi faccio vedere se ad esempio usdc crypto.com mi paga 10 usdc gli interessi io qui lo segno come se li stessi comprando 10 ad esempio ma come se li stessi pagando 0 cioè li pago 0 perché in realtà non li sto pagando sono gli interessi quindi li segnalo come 0 e poi magari ci scrivo di fronte interessi vabbè se so scrivere in questo modo capite mantengo una sorta di coerenza e so anche perché li ho pagati 0 ovviamente questo si aggiorna nella posizione liquidity in questo modo nel senso le share aumentano il gain effettivamente aumenta il pmc si abbassa che sembra qualcosa di paradossale cioè il prezzo medio di carico di usdc che continua ad abbassarsi può essere paradossale ma nel senso in realtà che voi state guadagnando senza pagarli ok sono proprio gli interessi quindi se vi disturba potete utilizzare altri metodi personalmente lo trovo il più comodo per come ho impostato il foglio excel detto questo ragazzi io vi saluto davvero distruggete questo video di like perché a mille like non so cosa succede non succede qualcosa di bello e io vi ringrazio ragazzi e ci vediamo al prossimo video ciao a tutti